Buonasera a tutti ragazzi, è stata una serata sofferta, è stata una serata che ci ha compresso le parti basse dello stomaco, le pareti più urticanti dello stomaco, ma alla fine in un modo o nell'altro ne siamo venuti fuori, peccato per quel primo tempo regolamentare sbagliato, completamente sotto ritmo, completamente svagato, completamente involuto, poi la squadra è tornata ad esprimere l'intensità che sappiamo, per cui diciamo che il primo tempo della Coppa Italia di oggi col Genoa è stato un incidente di percorso. Fatemi ricordare e salutare OneFootball, OneFootball con i suoi contenuti esclusivi, testuali e video, tutti gratuiti, OneFootball ha una app che vi propone notizie, approfondimenti, curiosità, video, highlights, partite, soprattutto della Bundesliga, ma non solo, highlights della Serie A e di altri campionati europei, l'app è nella descrizione di questo video, scaricate l'app di OneFootball, è tutto gratuito, sia scaricare l'app che usufruire dei suoi contenuti. È chiaro che quando abbiamo visto Tomori a terra nel primo tempo e il gol di Ostigard è chiaro che abbiamo pensato alla serata che poteva segnare una stagione, per quanto riguarda Tomori si parla di risentimento al ginocchio sinistro. Questo è, in attesa di ulteriori riscontri radiografici, non ha senso dire altro, è chiaro che il solo parlare di un acciacco, di un infortunio, di fermarsi, di un problema, di una lastra, di un esame radiografico ci mette tutti sul chi va là, lo so perfettamente, però da questo punto di vista credo che valga la pena attendere, sperare che si sia trattato magari di un'infiammazione, magari di un movimento del ginocchio a freddo, non so cosa dirvi francamente, non so cosa dirvi, speriamo che Tomori possa rientrare il prima possibile ragazzi, immagino non con lo Spezia, immagino non con lo Spezia nella serata di lunedì, ma speriamo, evidentemente abbiamo in testa la Juventus, poi ci sarà la Sosta e l'Inter, insomma speriamo che per queste partite FIC possa esserci. Per il resto nel secondo tempo regolamentare e nel primo tempo supplementare soprattutto abbiamo visto lo spirito della squadra, squadra che non si è affidata soltanto alle scorribande di Teo Eleao, Teo Eleao che sono stati un punto di forza anche stasera, però la squadra io continuo a vedere una crescita incredibile da parte di Pier Calullo, Paolo Maldini ha parlato prima della partita dicendo che vista la crescita dei nostri difensori non è detto che arrivi qualcuno e ha parlato Paolo Maldini di molti nomi inventati, noi cerchiamo di fare le cose a fari spenti, quindi intanto cerchiamo di capire evidentemente che cos'ha Tomori, però al di là di che cos'ha Tomori e al di là dei fari spenti del nostro mercato che sono tradizionali nel nostro mercato, ne abbiamo spesso parlato anche qui, lasciatemi parlare un attimo di Pier Calullo, io vedo una crescita continua e esponenziale di questo ragazzo, voi direte ma oggi il Genoa, ma oggi il Genoa aveva i suoi attaccanti perché Caicedo l'ho visto tonico, destro è sempre una mina vagante, Ie Boami è sembrato un buon giocatore, insomma è entrato Pandev con la sua esperienza, ecco non è che aveva davanti proprio nessuno, eppure Calullo non si è limitato a fare il difensore, ha sostenuto la squadra, le ha dato anima, le ha dato scatti, le ha dato intensità, le ha dato linfa e quindi questo vuol dire che ci troviamo di fronte a un giocatore vero, un giocatore della squadra, non a un ragazzo che viene a vedere cosa succede e ha ancora margini di miglioramento notevoli perché sono convinto che ancora sia per questa stagione che per le prossime due Calullo la sensazione che dà è di poter continuare a crescere perché è un ragazzo intelligente, è un ragazzo che mette a frutto, un ragazzo che apprende, quindi da questo punto di vista la speranza è proprio quella. E' entrato ancora bene Florenzi, abbiamo visto in questi giorni messaggi social di Romagnoli e Calabria, Romagnoli ha fatto il suo compleanno tra le mura di casa, Calabria non vede l'ora di tornare, insomma speriamo che i ragazzi possano tornare il prima possibile. La squadra oggi, a parte il primo tempo dove era improbabile, la squadra poi ha ripreso a dare tutto, Leao, Leao ormai è un giocatore che fa munire gli avversari, che fa succedere le cose, che insomma diventa un pericolo costante per tutti gli avversari e il gol che ha fatto nel primo tempo supplementare ci dice che non si limita soltanto a fare il suo movimento, cioè palla ferma, scatto, assaltare uno o due avversari, ma riesce anche a fare altre giocate, già prima del gol aveva fatto una giocata splendida con il tunnel a un avversario parata con un mezzo miracolo da sempre, il portiere del Genoa di questa sera, peraltro sempre sui social, insomma noi lo conosciamo il sempre, ritrovarmelo come avversario non ero, non ero francamente pronto, provo a cavarmela con una battuta, è chiaro che adesso noi dobbiamo utilizzare il campanello d'allarme di oggi con il Genoa per capire che con lo Spezia dobbiamo subito avere la tensione giusta, l'elettricità giusta e il ritmo giusto, l'intensità giusta, altrimenti contro qualsiasi squadra si richiede andare sotto, il Genoa che ci ha fatto dannare stasera è un Genoa che ha perso con lo Spezia di misura, quindi lo Spezia è una squadra che viene un po' come il Genoa stasera, il Genoa stasera non aveva nulla da perdere e evidentemente succede anche allo Spezia che si è rimesso in carne, si è rimesso a posto con la vittoria proprio di Marassi contro il Genoa e quindi dovremmo stare molto attenti. Io ho visto un gran bel Genoa oggi soprattutto nel primo tempo, può darsi che ci siano stati i nostri demeriti ma mi sembra che i giocatori che hanno preso sul mercato siano buoni, FT, Ostigar che ha fatto il gol, Yeboah quindi la sensazione che Sheva e Tassotti possano fare bene mettendo a frutto il mercato così come erano stati i programmi quando è stato ingaggiato Sheva me la rafforza, ne parlavamo questa mattina alla parita di questa sera ma sono evidentemente cose e situazioni del Genoa. Per quanto riguarda noi adesso dobbiamo davvero pensare bene alla parita con lo Spezia e poi dovremo evidentemente se non recupereremo nessuno prepararci ad affrontare la Juventus con lo stesso spirito, con la stessa capacità di collaborare, di stare uniti, di stare compatti, di stare vicini che abbiamo avuto con la Roma. Altro francamente a dieci giorni dalla parita con la Juve non mi viene in mente tenendo conto del fatto che prima c'è lo Spezia che è una partita importante, una partita che può essere irritare insidie, una partita che può essere davvero sdrucciola e quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo mettere a frutto anche quello che non ha funzionato stasera. Mi sembra che Bakayoko sia entrato molto bene, mi sembra che Bakayoko ormai sia regime nella squadra, oggi Tonali ha fatto un'altra grande gara ma con lo Spezia non l'avremo, avremo Bakayoko e Krunic e quindi la squadra dovrà trovare varie fonti di gioco in mezzo al campo, non soltanto al centro campo, dovranno cercare di fare gioco un po' tutti, dovranno cercare i vari reparti di stare corti, di collaborare, di stare vicini e di naturalmente così come sono stati aiutati Gabby e Calulu con la Roma che facevano coppia difensiva centrale per la prima volta, così dovranno essere supportati, aiutati, puntellati Bakayoko e Krunic che faranno coppia del centrale di centro campo dall'inizio per la prima volta con lo Spezia noi lì. Quindi sono meccanismi di aiuto, meccanismi di cooperazione, meccanismi di collaborazione che dobbiamo oliare e che dobbiamo mettere in campo al meglio possibile contro lo Spezia perché i tre punti contro lo Spezia sono pesantissimi in una domenica in un turno di campionato molto molto importante. Ciao a tutti e a domani per la Siena Stampa.